Carlo Verdone è stato il primo concorrente a ritirarsi dall'isola Siamo in diretta Siamo in diretta, bella Tu hai presente quella roba della tv francese Che ha accumulato tutte le persone con le risate più strane E le ha messe a ridere tra di loro No, dovrai cercare questa cosa Fa troppo ridere Cioè sono tutte le persone che hanno una risata più strana Perché non c'ero? E la tv francese le ha messe tutte insieme Si vede gente che inizia a fare E ognuno ride Il programma dura un minuto e mezzo Perché poi smettono di parlare e iniziano a ridere a catena Avete mai visto anni e anni fa Quell'intervista di quel presentatore Che non riesce a essere serio sulla voce di quell'uomo? Sì, certo È finto È tipo il Saturday Night Live di quel paese L'ho scoperto ieri L'ho fatto dire che da tutti i miei amici nel corso della vita Debanking dei videomeme Della storia di Facebook Che cosa bruttissima che mi hai detto Orribile, terrificante Ciao gente, bentornati E siamo live Siamo live Una puntata speciale Molto Una puntata diversa dalle altre Decisamente Perché io non sono più il fresco di zona Anzi Io e Zino abbiamo notato che entrambi puzziamo Che tu l'abbia notato dopo 27 anni Giovanni È un risultato importante Ognuno ai suoi tempi E siamo qui con ovviamente Zino Il Vate Il Pasco E abbiamo un grande ospite Nicola Conversa Che ci è passato a trovare qui dal basement No, non siamo Un grande saluto a Gianluca Stavo scherzando Stavo scherzando però Bello Beh, mi piace Stai carico Che prossimo ospite vostro è la Cristoforetti Esatto Magari, magari In realtà Valentino Rossi voleva venire qua Gli avevo detto no Sei andato in pensione Parliamo di gravity con la Cristoforetti Di Sandra Bullock Può essere un'idea Secondo me è certo Possiamo contattare anche l'astronauta Quello che è andato a muschio Vabbè, non so perché ora stiamo parlando di questo Però Cormorano Armstrong Ma si chiama tipo Cormorano Neil Armstrong Lewis Armstrong Detto il Cormorano Il Cormorano Lo saluti che negli ambienti di Houston Armstrong era conosciuto come il Cormorano Sei bello col cappello Pasco Sei serissimo Hai la barba stracurata poi noto Ma sai come saresti più bello Pasco? Sai come saresti più bello? Con il Box Art Settima Perché da oggi se volete Potete comprare il Box Art Settima Grazie Dovevo farlo Mi hanno chiesto Mi pagano per farlo Dovevo scusami Nico Mi pago per farlo Queste birre sono offerte da questa cosa che ho appena fatto Sì, viva le birre Rifalla Rifalla Ciao Nico Ciao Nico Che bello averti qui Che bello essere qui Grande fan Grazie Ci sei mancato Anche se non ti avevamo ancora incontrato Mai conosciuto Già ci mancava Nonostante l'appartenenza a due culture Vabbè Di calcistici diversi Ma non c'è Ma il Taranto è una bella squadra Anche il Bari Questa clip ora ha presa E io sono spacciato Per sempre Guarda Affermo che Viva il Lecce No No Perché Secondo me Condividiamo un reciproco odio per il Salente Ah non è Non è il punto di incontro Secondo me tutte le squadre pugliesi Vanno sostenute Da noi pugliesi Non si sa perché Taranto odia Bari Che odiamo Lecce Che Non si sa Sono quelle cose culturali Io sono ultra in classe alle superiori Che quando Io sono andato a Canosa di Puglia Grande Come Lino Banfi Come Lino Banfi Quando ho letto sul registro Canosa di Puglia Lui ero il tra del Taranto Mi ha bullizzato quattro anni della mia vita No Perché Perché sei nato a Canosa di Puglia E noi quelli del Bari Li odiamo Il perché Non me l'ha mai saputo spiegare Mario Guardi Mi ho rovinato le superiori Sei tu a questo podcast Ho tirato fuori un trauma orribile Il prossimo film lo faccio su Mario Guarda Abbiamo tutti problemi Ligati al tifo Secondo me Zino sicuramente Sul fatto di essere interista In una città Che comunque si divide Inter e Milano Quindi comunque Si creano questi dissapori Però L'hanno più senso Però sicuramente Siamo tutti d'accordo Che Foggia È il posto più brutto Della Puglia Perché devi dire queste cose Ma pure Mauro Zingarelli Di Foggia Ma salutiamo Mauro Grande Mauro Amicone Eppure Pio Emedeo Stavo scherzando Zio Ma non si è presa a male Ma non è che sei di Foggia In realtà i miei zii Sono in San Severo Mia mamma è di Guglielmo E mio padre è di Margherita di Samora E questa è un'altra puntata Di Pugliesi a Milano Milano è la seconda città Più grande della Puglia Il Carcano è bello Possiamo dire Questa frase era stupenda Milano è una città Con più baresi Al mondo Penso Più di Bari Comunque ci tengo a leggere subito Un commento del nostro amato Giuseppe De Massis Che dice Sono fan di Nicola Conversa Da dieci anni Sono cresciuto con i video Dei Nirki Hop Amo il modo di scrivere di Nicola E sono anni che dico ai miei amici Che nel prossimo futuro Sentiremo molto parlare di lui E ora finalmente Vedo che comincia ad avere Il successo che merita Ed è solo l'inizio Anche se non mi conosci Sappi che sono fiero di te Ma è il mio cugino Chi ha ragione Grazie Giuseppe De Massis Posso testimoniare Che è uno che sta sempre qui Più che altro Immagini se Giuseppe De Massis In realtà è Mario Quanto sarebbe incredibile Oh Quello twist incredibile Però c'è tipo Scena larga Con io che scopro sta roba Al telefono E poi esplodo Malamente Perché non può essere vero Non puoi accettare questa cosa Ma Mario no Mario Comunque 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 Ci siamo resi conto Che dobbiamo parlare Della puntata Anche se la puntata Parla di noi a volte La puntata si fa Nel non parlare della puntata E quindi oggi Grazie al bellissimo stimolo Di Nicola Conversa Parliamo Di due Incredibili figure Che siccome devono essere uno Però tu hai deciso Di fare questa cosa Ma sì Ma sono i palleggi Continuare questa tradizione A noi ci piacciono i palleggi Dualismi Poi entrambi con la V In questo ragionamento Dell'abbecedario Del cinema italiano Bellissima parola Bellissima parola Quella parola Che legge le elementari E ti rimane per sempre Che sono Paolo Villaggio E Carlo Verdone Cazzo io mi ho preparato Su Veltroni Venditti Pure io Venditti Mo Parliamo di quelli Oppure ne facciamo uno e uno Facciamo Veltroni E Villaggio Chi sarebbe Per Pasco Chi era l'unico Dei due Su cui dovevamo fare la puntata No più che altro Il fatto che sono due Io lo dico Mi metto le mani avanti Non ho preparato niente Delle mie solite Ah perché C'è i segni di studiacali Ok Io faccio questa rubrica Io ora che lui è venuto apposta Se posso Venendo in metro Ho detto Ora provo a chiedere a chat GPT No che andrei Genio Di scrivere Aneddoti su Su Villaggio E Verdone Vi dico solo che Fa cacare 3.5 Carlo Verdone Due punti Isola dei famosi Ma non credo L'abbia mai fatto E infatti Carlo Verdone È stato il primo concorrente A ritirarsi Dall'isola dei famosi Ma non è vero La sua partecipazione È stata breva Ma ha aggiunto Un tocco inaspettato Di umorismo Al programma Se Carlo Verdone Andasse all'isola dei famosi Io guarderei L'isola dei famosi Ma ci credi E beh Su Paolo Villaggio E' un po' più informato È nato a Genova E' stato appassionato Del palio di Siena È stato appassionato Perché ora non lo è più Ha perso la passione È morto Quindi ci sta Ah no Pensavo Io pensavo Io pensavo Verdone Hai appena fatto La gaffa Da Ivan Graziani Eh no Pensavo Verdone Un villaggio No dai Siamo stati con la pesce Michelin No Questo è sul villaggio La cosa incredibile La leggo tutta È talmente fatta bene Che io ho googlato Se fosse vero O meno Ma quindi Hollywood Faceva bene Ad avere paura Dell'intelligenza artificiale Assolutamente no Bastavo io Siamo soltanto lì Con questo Tu al telefono in metro Paolo Villaggio Was born La famosa corsa Di cavalli Che si tiene due volte L'anno Nella piazza principale Della città Era talmente appassionato Che nel 96 Guidò La contrada Dell'Uga a cavallo Ora I fantini Sono notoriamente bassi Quindi ho detto Ma vuoi vedere che Che è successo Siderando che Pozzetto È un pilota di NASCAR No Veramente Tipo ha guidato Auto e roba varie Non esiste nessuna Informazione a riguardo Quindi potrebbe essere vera Io non l'ho trovata Incredibile Magari lui ha insabbiato tutto Dopo una carriera fallimentare Sarebbe incredibile Perché era Da fantino E poi è diventato È incredibile In che anno ha detto Nel 96 Quindi in realtà Avrà avuto tipo 60 qualcosa anni Sì Mi facenti che c'è una foto Di Paolo Villaggio Vestito da fantino Con la contrada Grande carriera Adesso Adesso corro Ma se lo vedi la notte Che fa botte Con le altre contrade Pazzesco No Potrebbe essere In realtà Però non che abbia corso Ma che abbia fatto Tipo che era lui a cavallo Dava prima Però Ho scoperto Che Paolo Villaggio Aveva un fratello gemello Identico Che però insegnava Matematica e fisica E le sue lezioni Erano interrotte Continuamente Perché tutti Credevano fosse Paolo Villaggio No Cioè le matricole Credevano di avere Paolo Villaggio Che gli spiegava La fisica e la matematica Quindi un gemello mozzigoso Sì Sì Ma poi iconico Che è un prof Cioè nel senso Per tutto ciò che c'è attorno Al personaggio di Fantozzi È brillante Immaginarti un professore Con l'estetica di Fantozzi Che incredibile Pazzesca sta roba Assurda Poi lui famiglia di professori Mi sembra Sì lui è un intellettuale Se senti le sue interviste È una roba Che fa Fantozzi La cosa incredibile Io questa da ignorante L'ho scoperta grazie a sto podcast Fantozzi era prima un libro E poi un film Io credo fosse andato il personaggio Invece è proprio un libro di No no È un villaggio Sì esce anche a capitoli Su quei vari Quelle varie Diciamo testate Sai quelli Tipo Inserti Non veniva la parola Quegli inserti dei giornali Che fanno le cose appuntate Fantozzi ha varie vite Nella parte Diciamo di letteratura Ma Villaggio è un personaggio incredibile Cioè a parte che è un grande amico Di De Andrè Già questa è Una bella storia Potremmo dire che Villaggio e De Andrè Sono un po' gli Alberto Sordi E Fellini della Liguria Nel senso che si conoscono Quando sono due squattrinati Si conoscono Quando non c'hanno la lira E vanno veramente a Genova A mangiucchiare A campare Un po' risicando Quello che c'è E poi entrambi Fanno un viaggio Fanno un viaggio autoriale Pazzesco E Villaggio Anche io mi sono un po' Fatto un po' Di cerchi E Villaggio È un personaggio incredibile Perché Villaggio Inizia Nelle crociere Con De Andrè Cioè lui faceva il cabaret E De Andrè metteva la musica E Berlusconi cantava E questa è un'altra sceneggiatura Di chat GPT Tu immaginati La gente Che era finita Su una crociera In cui c'era Paolo Villaggio Che faceva il cabaret De Andrè Che metteva la musica In crociera E poi vent'anni dopo Che dicono Loro erano in crociera E tu ti dicono Ma va Cioè Pazzesco E poi Villaggio A fine anni sessanta Inizia a muoversi Nel mondo Della stand up comedian Se vogliamo All'epoca Non la chiamavi stand up No era cabaret banalmente Cabaret varietà eccetera Lui tra l'altro scoperto Da Costanzo Stavo per dirlo Grande Pazzesca Costanzo 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 Incredibile Ma tipo nel sessanta Cioè Quell'epoca era Ono Stop Da dove è uscito Verdone O Costanzo Lui erano gli uniche due Tipo Mastrandrea Che faceva parte Ma lui penso che ci abbia Fatto proprio un lavoro Di scouting Cioè che ci abbia visto Veramente lungo 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 Costanzo guarda che una volta Si è telefonando di Mina Tra l'altro Ma Costanzo guarda che una volta Bisognerebbe fare una puntata Su Costanzo Costanzo è un personaggio incredibile Incredibile A parte che Costanzo è stato A un certo punto Arrischiato di essere ucciso Allora la scorta Esatto Volevano sequestrarlo Con la di Filippi E poi Costanzo Ci fu anche un attentato Sì Costanzo Costanzo lo Cioè portava Carmelo bene Negli anni 90 Faceva la puntata di Carmelo bene Da Costanzo Ma che incredibile È clavorosa Mi fate vomitare Io non esisto Cioè quella roba andava Sui canali principali Mi fate una cazzata Mi sa che Primi Costanzo ciò Si fumava in diretta Capito Capito Io non sapevo tutto questo Quindi dovremmo fare una puntata Sì Maurizio Costanzo è un personaggio incredibile Un personaggio veramente incredibile E lui lì disse Vai a questo posto Che si chiama tipo 7x8 Una roba del genere Sì bravissimo Era un posto famoso Dove andavano i cabarettisti Attori comici dell'epoca E quindi Villaggio Va fatto a tutti questi giri strani E a un certo punto Fa anche un po' di film Lui recita Coco Gasman Fa Armata Branca Leone Fa un po' di roba Nelle 60 A fine anni 60 Tutti anni 70 E poi scrive Fantozzi Ma lo scrive da Intellettuale Non lo scrive da Attore demenziale Perché aveva lavorato All'Ital Cedar lui Quindi lui ti ha raccontato Ciò che vedeva All'Ital Cedar Il mega direttore Le scale Quella è tutta una presa Per il culo Per Ma mi sembra che Cioè lui racconta Che lo stesso Fantozzi Il personaggio di Fantozzi Era ispirato A uno Che lui aveva conosciuto Che aveva tipo Sto ufficio sfigatissimo Nel sottoscala E la prima volta Che l'ha beccato C'è stato proprio Un siparietto Alla Fantozzi E quindi ha detto Vabbè Cioè questo qua È proprio la mia musa ispiratrice Se devo scrivere una roba riguardo E tra l'altro Non so se è vero Questa è più una leggenda Metropolitana Che non ricordo Chi me l'abbia Detta tempo fa Che inizialmente Lui voleva che Fantozzi Lo facesse Tognazzi Tognazzi Pozzetto E rifiutarono Uno e l'altro Lo fece lui Pazzesco Pazzesco Immaginate Pozzetto Che fa Fantozzi Avrebbe fatto Un'altra roba Tac Sì Avrebbe fatto Un'altra roba E Tognazzi Anche Perché Tognazzi Comunque era sempre Quell'attore Un po' al limite Tra quella commedia Impegnata Il faceto E il serio Cavolo È la parte Pazzesco Ti facevi film di scuola Però poi ti faceva La commedia italiana Dell'epoca E comunque aveva Non so che Di nazional popolare Favoloso Quindi Tognazzi È stato interessante Invece Te lo fa Fantozzi Nel 75 Sì E secondo me Fantozzi È l'opera Intellettualmente comica Che è invecchiata meglio Tra l'altro Un discorso che usciva L'altro giorno Con Scoditti Che tu hai detto Fantozzi A differenza di Totò Io riesco ad associarlo A un discorso Di denuncia Intellectuale Eccetera Ora su Totò Faremo sicuramente Una puntata Perché se ne merita Dieci Sì Totò Costanzo Bella Totò versus Costanzo Madonna che puntata No ragazzi Dobbiamo andare sulle monografie Perché altrimenti È un casino Preparare queste puntate Però Costanzo Nel 75 Ti fa un film Che è assolutamente geniale Ma geniale A tal punto Che Pasolini Si innamora Del non linguaggio Di Fantozzi Cioè Pasolini Questo fatto Che Fantozzi Altera le parole No Le esaspera Il mega direttore galattico Gioca con la lingua italiana Creando delle iperboli Senza senso Volutamente grottesche Pasolini Era lì Feghese Ma nel senso Capito Sto facendo Sì È una roba anche molto postmoderna Esatto Alla Wallace Alla Pinchon Americano Cioè anzi È quasi Contemporaneo In realtà Contemporaneo E Fantozzi Io ci penso sempre Cioè quando io vedo Fantozzi Però ditemi voi che ne pensate Io non è che rido Cioè Bravissimo Allora Da piccolo Ridevo molto Per la slapstick Perché Fantozzi È uno di quei pochi italiani Che ha fatto la slapstick Nei film Le cadute Le botte Poi Allese da piccolo Ti accorgivi che c'era la controfigura Altro Però non te ne fregava niente Perché ridevi E quindi sì Io ridevo su quello Però tante cose Io non le coglievo Adesso da Post trentenne Che schifo di Post trentenne Orribile Che schifo Ci sto male Nel senso che a me fa Proprio pena È vero Cioè c'è molto più Quell'immedesimazione Nella difficoltà Esatto Prima che mi fregava La partita a bigliardo Vi ricordate Credo che sia un Fantozzi Contro tutti È la Non voglio dire una cavolata La partita a bigliardo Contro il mega direttore Era il primo Il primo Allora era il Fantozzi Quando lui deve perdere Per forza Lì ridi A me adesso Mi viene lo sconforto A pensare che lui Invece Vuole farla Quello che gli dà Il coglione Esatto Il coglionazzo È umiliante La scena di lui Che guarda la pina Che lo guarda disperato Che lei gli ha chiesto Di perdere Esatto E poi lui però Ruba la vecchia Ruba la mamma Cioè c'è sempre Questa capacità Nell'opera Nelle prime due Soprattutto di Fantozzi Di giocare Tra una totale Umiliazione Dell'uomo medio E questa forma Quasi grottesca Iperbolica Dove l'uomo medio Diventa In tutto un tratto Un eroe No? Cioè diventa Oltre le righe Fuori dagli schemi E quindi ti passa Da un'umiliazione assoluta Del tipo Direttore Che lo umilia A biliardo A lui che prende la vecchia E scappa con la vecchia Che è un gesto Assolutamente senza senso Ma che viene legittimato Dal suo essere Alla fine un eroe È particolare Villaggio e Fantozzi 1 Perché Sapendolo ad adulto Sempre che lui Odiava Fantozzi Ti fa capire Questo per anni Interpretato un personaggio Che odiava Ma soprattutto Prova a trovarmi Un film Adesso di Trent'anni fa Invecchiato così bene Esatto Infatti è proprio quello Che ti fa capire Il valore artistico Dell'opera Esatto Che nella commedia È molto difficile Da trovare Nella commedia italiana È in realtà Quasi Anche del cinema Staglio e olio Bravissimo E unirlo però A quel tipo di profondità Della commedia Della commedia italiana Oggi Il discorso è Ma è complesso Io ti propongo Secondo me Fantozzi Si avvicina molto A Buster Keaton Cioè Buster Keaton È l'unico attore comico Muto Quindi là la pantomimica Però anche qualcosa di Chaplin Perché la rappresentazione L'industria Ma Chaplin esce sempre bene Cioè il punto è come Chaplin ti fa ridere Ma poi se ne risulta sempre Che non dico che è un figo Però è il supereroe che va bene Tipo di un film di Fantozzi In cui Esatto Esatto E questo è il punto La spanga Ma cioè la spanga Che muore Muore Fantozzi Esatto Nel senso di solito I personaggi super comici Anche quelli che vanno Verso la decostruzione Di loro stessi Comunque cascano in piedi Dai tempi di Chaplin A Keiko Zalone Cioè Keiko Zalone Non casca mai per terra Anche nella sua bufferia Nella sua ignoranza Volutamente raccontata Comunque casca in piedi Comunque l'eroe della storia Gli unici due Che a me vengono in mente Che non cascano in piedi Sono Keaton e Fantozzi Con una differenza però Che Keaton In quegli anni Vabbè io vorrei fare Dieci puntate su Keaton Perché lo amo particolarmente Keaton Casca in piedi Parlando di Michael Keaton Bat Ovviamente Perché Master Keaton Casca in piedi Perché il film Deve finire bene Però lui è stranito C'è per esempio In The Cameraman Il finale di The Cameraman Un capolavoro Perché lui alla fine Trova l'amore La tipa si innamora di lui Classicone Però c'è lui Tutto stranito Che fa ma che cazzo Sta succedendo Quindi è un tempo In cui i film devono ancora Finire bene Però lui è stranito Fantozzi si concede Invece Ormai 50 anni dopo Anche di cascare Proprio male Cioè Fantozzi Non esce mai Come uno figo Mai Se ci pensi Anche nella struttura Narrativa del viaggio Dell'eroe normale Fantozzi è tutto Al contrario Cioè Solitamente In quegli anni Si esasperava La ricerca del lavoro La ricerca del benessere Il finale era quello Fantozzi comunque Ha una famiglia Ha un lavoro Ha dei colleghi E lui parte da una condizione Che teoricamente Potrebbe essere il finale Del film E la distrugge Man mano Cioè io mi ricordo Che uno dei finali Fantozzi è lui Che sta nella mega vasca Del direttore Fare il pesce umano Con altre robe Che ora è un simbolismo Incredibile Da piccolo Facevi Bello Adesso pensi Dici porca miseria Il divano di pelle umana Sì 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 No è vero Oltre il fatto incredibile Del Altri film Suggeritemi Se dico una cavolata Il gergo usato nei film Lo utilizziamo tuttora adesso Il famoso Rutto libero Il mio padre Certo Lo dice ancora Certo E' uno di pochi Cioè io mi ricordo Lui Aldo Giovanni e Giacomo Con cui continui a usare Lo slang È vero È vero Ma ci sono proprio Delle situazioni Banalmente mi viene in mente Quella della partita Di lui che non Non riesce a vedere la partita Quella situazione è immortale Sarà per sempre così È una rappresentazione Un po' L'antigone O comunque una di quelle L'amedea Quelle figure Che ha preso palo Che esisteranno per sempre È pazzesca sta roba È pazzesca Perché dimostra L'importanza Ma tra l'altro Pietro Casella Perché forse questa roba L'hai preso dalla puntata con Pietro Perché lì si parla un po' di fantozzi Lui ci cita il regista Sì Dei primi tre Luciano Saggi Luciano Saggi Che è fondamentale Secondo me In questa equazione Ed è poi Effettivamente Magari insieme Ovviamente a Villaggio La mente che ha Verdone invece Comunque con il fatto Che è il cappello in testa Anzio Ha tutta questa roba Lo sta Lui è pratico Ma lui se si mette il cappello Se si trovi il cappello Inizia a fare È fortissimo oggi Verdone Vabbè chiaramente Partiamo dalle banalità Prende l'eredità di Alberto Sordi Chiaramente O un po' Gli viene messo addosso Un po' Sì perché addirittura Fa il film di Sordi In viaggio con papà In cui litiga presentemente Con Sordi Ho visto un'intervista Praticamente Su questo interrotto Sta una scena In cui deve nuotare Praticamente Lui gli diceva Che gli avrebbe dato stop Nuota Nuota Nuova Non diceva stop Non diceva stop Non diceva stop Perché per G6G Sordi se n'era andato E lui si è ridotto Ritorna a nuoto E stava affogando E usciano dall'acqua Gli ha detto Ma vaffanculo E lui se n'è andato Più si sono dovuti chiedere scusa Verdone ha avuto la febbre Lui si è scusato Dice che lì si è incrinato Un po' Di rapporto C'è un'intervista Ma dai Pazzesco Come ha detto Lui gli ha messo addosso La roba di soldi Ma lui non è mai voluto Diventare soldi È Roma Che è facile L'associazione Gli è poco finita Come tutti i comici napoletani Poveretti Ne azzecchi una Sottroisi Esatto No è verissimo C'è un'intervista In cui C'è una Intervista a Frank Matano Dall'Undi C'è un No Troisi Sai che ho pensato a quella Io ho capito Questo podcast Io lo faccio dicendo Quello che penso Cioè senza nessun feed Appena mi viene una cosa in testa La dico C'è un Come si chiama C'è un Un piccolo pezzo Che ho visto di una Programma televisivo In cui Sordi Gli viene chiesto Sordi Perché non hai avuto figli E lui fa No l'ho avuto Sei tu a Verdone Quindi è vero Che c'era questa retorica italiana In cui Verdone doveva Essere figlio di Sordi Però secondo me La cosa figa di Verdone È che Verdone Si fa un po' Inconsapevole erede Di una Roma Che nei precedenti Il primo film di Verdone Un sacco bello Dell'80 Ok Si fa erede Di una Roma Che nei precedenti 20 anni Mazza che cazzo Di racconti aveva avuto Cioè nei precedenti 20 anni Roma era stata raccontata Da Fellini Da Basolini Stava venendo raccontata Mentre lui si formava Esatto Lui c'ha il padre Il padre di Verdone Quelle persone che hai citato In casa Capito Il padre di Verdone Nel famoso critico D'arte Vittorio di Sica Anche Cristian Stava con sua sorella Stava con sua sorella Stava con sua sorella Sono cognati Assurda sta roba Quindi c'ha Tutta sta roba qua E nell'80 Se ne esce Con un cinema Che non è Il cinema precedente No Cioè non è per niente Figlio diretto Magari è figlio indiretto Ma non è che lui volesse Fare il cinema d'autore Alla Fellini Cioè lui si inventa E penso che questa sia La cosa più bella di Verdone Che Verdone si inventa Un modo di fare il cinema Questo Non Verdone Ok Se lo inventa Sergio Leone Hai ragione Nel senso che Verdone Questo solo perché Verdone è uno di quelle persone Per colpa sua Faccio cinema Quando faceva non stop La trasmissione Lui faceva una serie di personaggi Guardatevi lo sketch Della farmacia Che è incredibile Lui per 20 minuti Tiene banco Con 5 personaggi diversi Sergio Leone Gli ha chiesto un film Lui arriva Gli manda una sceneggiatura Sergio Leone Gli la butta all'aria Vuole un film sui personaggi Ok Verdone È sempre voluto scappare Dei film dei personaggi Per me Verdone È compagni di scuola Ok Per me il film più bello Di Verdone È compagni di scuola Dove dirige 14 attori Incredibili E lo fa Con lui che piange Nel bagno Il primo giorno Perché non credeva Di farcela Quello è Verdone Poi i personaggi Gli riescono Perché comunque Quando vedi Viaggi di nozze Io ci credo Che sono tre persone diverse Ma anche me Bianco-Rosso e Verdone È incredibile Quella roba Però L'intuizione di Sergio Leone Che ahimè È una cosa Che i produttori Non fanno più Cioè Leggere Le sceneggiature Cioè Mi pare una critica Però non lo è Però i produttori Che capiscono di cinema Che ti prendono E ti accompagnano È molto difficile Trovarli Soprattutto produttori Che ascoltino bene L'idea che hai Ma prima stavamo raccontando Stavamo parlando di te Mi fai un pitch in 5 secondi Mazza Magari te lo faccio in un minuto E quella è l'idea del secolo E tu non hai avuto il tempo Di ascoltarmi È tutto l'ascolto Che manca Perché ormai È tutta una slot machine Noi andiamo tipo TikTok Vai cagata 15 secondi Cagata 15 secondi Io che fin ti posso raccontare Un po' Tinder pure Sì Swipe 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 Ma Tinder Sì Sì Questa è una cosa seria Tinder è anche nel senso Che tu hai Mille possibilità Tu dici Ok Dico sì a Zino Però nel frattempo Mi sto precludendo La possibilità di altre mille Webstar O situazioni Eh beh sì È questa cosa di voler All you can eat Tutto quello che puoi Tutto quello che Che si può avere Che nel possibile In teoria lo potrei avere Però in realtà Non mi sto godendo Quello che ho Esatto Perché stai già pensando Vabbè tanto se mi molla Lascio a casa Che ci vuole Faccio l'altro La stessa roba Tanto un produttore sa Che ci sono altri disperati Con altre idee Una puoi indovinare Esatto Come adesso Che si faranno tutti i film In bianco e nero C'è stato il miracolo Di Paola Cortellesi Come quando C.G. Grobo E ti chiesero tutti i film Sui superiore Certo Certo Ma hai detto una verità assoluta Che tra l'altro Era uscita un po' Nella puntata con i manetti Cioè l'Italia Ha una storia Di grandi singolarità Produttive Clamorosa Alfredo Bini Che capisce Che Pasolini è un genio E dice Io ti seguo Ti ascolto Franco Cristaldi Che era un altro Che faceva un botto di robe Sergio Leone Che magari anche In una maniera più dominante Però comunque entra Cioè Carlo Verdone Ha fatto il corso di regia Con Sergio Leone Una settimana Gli ha spiegato Che il cinema è questo Capito La conosci la cosa bellissima Di Orson Welles Quando Orson Welles Fa Non c'è trancazzo Però è una roba bella Quando Orson Welles Racconta In un'intervista Il suo primo film Che è quarto potere Cioè il suo esordio La regia È quarto potere Ma a un certo punto Lui fa Guarda Entrò nel mio fake E Orson Welles Era famoso Per essere uno della radio Orson Welles Era quello che aveva fatto Un famoso scherzo Se non la sa Ti farebbe volare Che lui aveva detto Durante la radio Che erano arrivati gli alieni Esatto Mezza America impazziva Ci hanno fatto un 30 All'università Assurda sta cosa È la prima fake news Al mondo Incredibile Vero L'altro è Tonio Cartonio Che è morto L'altro è Tonio Cartonio Quello è tipo Effetto Mandela Quelle robe che tu pensi Che sono successe In realtà E quando intervistano Orson Welles Orson Welles fa Guarda Da me entrò Uno dei più importanti Cameraman dell'epoca Americani Che mi fa Guarda Io voglio fare un film con te E lui li fece Ma perché Io sono un esordiente Perché tu non sei un cazzo Quindi li fece E Orson Welles la chiama La one day lesson Cioè sto cameraman L'insegnò in un giorno Tutto quello Che lui doveva sapere del cinema E gli disse Però il fatto che tu Non sei un cazzo di cinema Mi permette Di fare che cazzo Di proporti delle cose Che un altro regista direbbe Non sei boffa E invece no Si può fare Chi se ne frega E quindi Quello detto tu Della settimana Di Sergio Leone E quella roba lì La grande Scusa Chi era il DOP Di Quinto Potere Mi senti Di Quarto Potere Cioè il DOP Ha fatto il film Perché il film è tutto Su quelle inquadrature Infatti Orson Welles Non bleffa la tua vita Orson Welles in realtà No Se tu vedi i titoli Abbiamo distrutto ragazzi È un po' come Napoleone Secondo Ridley Scott Se tu vedi i titoli di coda Di Quarto Potere Il direttore della fotografia Orson Welles Sono messi allo stesso livello Il cinematografe Perché Orson Welles Disse io voglio Che il mio direttore della fotografia Sia messo come me Un altro caso in cui succede Piccolo Altro off topic Che non c'entra Un film che consiglio Victoria Film bellissimo del 2015 In cui addirittura L'operatrice di camera Viene messa prima del regista Perché è un film Tutto in piano sequenza Di un'ora e mezza Filmone Geniale Tra l'altro Con un giovanissimo Rogowski Che è l'attore Che mo' sta spaccando Frank Rogowski E quindi il regista Ha fatto mettere Nei titoli di coda Prima l'operatrice di camera Che è il nostro regista Io per i lati Non ci siamo parlati Per due anni Perché non ho messo Il suo nome Nei titoli di coda Ma perché Sei una merda Perché mi sono dimenticato Perché sei una merda Il tuo nome era Indirettore della fotografia Io ero palesemente Sceneggiatore E anche co-regista Avevamo 16 anni Quel film doveva essere scritto Scritto e diretto Da Piovaldi Pasquale Non dovevi riaprire questa cosa Vabbè ci stavamo Ora altri due anni Qui fai da solo Al podcast Se vuoi vengo Dai ti prego Dai dai Riccola che cazzo C'è manco il tempo Di litigare Gli off Riccola è qui Per un provino Per sostituirti Ah ma Siamo in diretta Scusami Lui mi ha detto Guarda c'è uno scherzo Del 2016 Se puoi venire Magari 2016 No vi volevo fare Una domanda Prima abbiamo detto Che un po' A Verdone Gli è stata messa Un po' addosso Questa roba di sordi Del nuovo sordi Secondo voi È o non è così Che in Italia Quando abbiamo Delle particolari Eccellenze Da un punto di vista artistico C'è la necessità Di Prolungarle nel tempo E quindi di trovare Forzatamente uno Che sia un erede E non c'è la capacità Di guardare oltre Per cercare qualcosa di nuovo Cioè siamo così attaccati Al buono Che c'è stato Dal non cercare Di vedere Quello che c'è dopo Siamo sicuramente Un paese legato Alle tradizioni Che vuole quello Che conosce Certo Molto vero Penso a livello culinario Anche legato ai numeri Se una roba funziona Significa che potrebbe Rifunzionare Se non funziona Significa che forse Potrebbe rifunzionare Una terza volta Quindi ci sono persone A cui vengono date Anche 3-4 chance Perché ne hanno avuto Una in cui hanno Giusta Che magari potrebbero andare Non vanno Non è un malus creativo Questa cosa qua Ammazza sì Tanto Tantissimo Pensa che quando uno sceneggiatore Imbrocca un film Ne scrive 3-4 Poi magari si Eusauriscono le cose belle E hanno bisogno di tempo Che sia innamorarsi Che sia fare la pizza Che sia rifare stanza Ha bisogno di un tempo Un'idea va sedimentata Va capita Si scrive con la porta aperta E la devo scrivere Dobbiamo capire insieme A volte ti vedi persone Che scrivono 3 film in un anno O li avevi nella Nella cartella E la vedo molto improbabile Altrimenti vieni spremuto E poi dopo che vieni spremuto Non hai idea Ne sbagli una Giustamente perché sei stanco E sei una merda Non funzioni più Questo non si applica al cinema Si applica a tutto In Italia Qualunque bianche il calcio Bravissimo C'è sempre le rede di Messi Da 40 anni Esatto È quel discorso là C'era già anche le rede Di ragazzo Che appena Che viene sordito 15 anni C'è già le rede Però questa cosa Capita anche all'estero Quindi in realtà La metafora del calcistica Mi fa capire che forse È una cosa anche globale Beh però il cinema Cioè il cinema italiano È un po' malinconico Noi più degli altri Esatto Io dico cinematograficamente Parlando Secondo te anche in America È così Tipo a Napoli Non direbbero mai Varaschelia Il nuovo Maradona Perché c'è quasi L'hanno chiamato Varadona Per un anno Sì sì È beccato proprio La città sbagliata Napoli vive Della leggenda Di Maradona Eh ma quello è un discorso No no Ma infatti È un discorso bellissimo Però infatti Essendo quasi L'esempio Massimo Di questa cosa Però Maradona È quasi un santo In questo caso Quindi è difficile Ipotizzare Poi gli ha dato Certo Certo Maradona è un fatto Proprio quasi Non so perché Ha tirato fuori Maradona No ma perché ci sta È stata la mano di Dio Zio nel senso È divino Maradona Però il discorso di Zino Il discorso che sta portando Anche Nicola È che noi comunque abbiamo Un non coraggio verso il nuovo Tendiamo a dire Ok funziona Ma non è anche Perché poi il paradosso italiano È che non è che noi Dici applichiamo Un modello di business Statunitense È dritto Ok fatturi Ok No noi ci perdiamo In delle convinzioni Un po' melanconiche Un po' fallimentari Perché non abbiamo neanche Un cinema che è industria Cioè lo è Ma non nel senso storico Abbiamo grandi autori Cioè nel senso Se tu non davi l'occasione A Fellini di fare cinema Negli anni 60 Mica lo faceva il cinema Non so se mi spieghi Però è sempre il problema Voi quando Voi uscire con una ragazza nuova No all'appuntamento della vita Ragazza nuova All'appuntamento della vita Vi siete comprati un maglione Però l'avrete preso di fretta Vi mettete il maglione nuovo Quello vecchio Che sapete che vi sta molto bene Quello vecchio Quello vecchio Grande metafora Verità Verità Azzeccatissimo E questo è il problema Si applica il cinema Si applica tutto Perché lanciare un regista giovane Se il vecchio comunque Mi porta a casa Anche altra roba Avendolo fatto Ho scoperto che in realtà È solo una questione di tempo Secondo me non si divide Il regista bravo Da regista non bravo Il regista bravo È quello che ti porta a casa Tutto nei tempi giusti E non ti fa spendere tanti soldi Quello che ti fa fare Lo straordinario Non funziona È un problema Perché ha un costo Il cinema ha un costo al minuto Quindi 80 al chilo Alla Boris Boris sai me È verità Tutto vero Che sembrava Io al mio primo set Ho detto Cazzo Stiamo in Boris Ma parliamolo Del tuo fin di esordio Nico Parliamone Parliamone Vai Allora Manca a fare la posta Il mio direttore della fotografia Daniele Poli È il direttore della fotografia Di Boris 1 e 2 È quello che ha inventato Il modo in cui andava Girato La smarmellanza Però dietro le quinte Esattamente Bellissimo Che mi ha dato la casa di produzione Perché volevano un DOP Scafato Perché è il regista Allora Si chiama Un Oggi alla Volta E vorrei dirvi Che l'ho scritto A New York In un bar Però A casa mia Con la mia amica sceneggiatrice Banalmente Io volevo Raccontare Una storia Che non vi posso Far troppi spoiler Perché il film Dopo i primi 30 minuti Cambia registro Perché all'inizio Venendo da internet Ho voluto molto Che avesse un ritmo web Quasi mi è stato detto Sembra troppo Un video di YouTube Però io su YouTube Sono nato YouTube dovevo dire grazie Ed era inutile fare il figo Quando in realtà Vieni da quello E poi dopo ci sono Cambi i colori Cambia la color Cambia il modo di essere girato Diventa più film E si basa Su un pretesto molto stupido Un mio amico Da Andavamo 17 anni In discoteca Ha conosciuto una Lei gli ha dato il numero Lui con la musica alta Canna il numero Mette un'altra cifra Invece di un'altra Contatta Via SMS E inizia a parlare Con questa Che è un'altra persona Geniale Culo vuole Che era Nella stessa città di Taranto Non ci posso credere Stanno da 17 anni Non è vero Vabbè ma è incredibile Ma è assurdo questa cosa La pretesa di questo film È lui si innamora di lei Lei gli dà il numero sbagliato Lui conosce un'altra St'altra lo porta In un turbinio di Cose strane Un po' alla climax Di Gaspar Noè L'hai detto tu In realtà è un film Copiato da un film Spagnolo Che nessuno conosce Ho fatto questa battuta Una volta E tu ti sei stato in silenzio Veramente Che si chiama Un dia Io non sapevo niente Di questa cosa Questo è l'ingaggio iniziale Ci sono Una marea Di attori Non attori Nel senso Il protagonista È Tommaso Casissa Che viene da Da TikTok Viene un content creator Però io Conoscendolo Ci ho sempre visto Che il mondo di internet Li va stretto a Tommaso E secondo me È un gran bel protagonista Poi c'è Gineva Francesconi C'è Francesco Centorame Che so È il nostro amico Salutiamo Francesco Centorame Che ha accettato di fare questo film Se mi rendi brutto Adoro Quindi l'abbiamo fatto Con la panza Il mullet e i baffi E un tocchettino di autismo Bellissimo Grande Un bell'attore C'è Federica Pagliaroli C'è Katia Follesa Ok Che a cui gli ho dato Una parte drammatica Perché io sono convinto Che i più grandi comici In realtà Abbiano quella venetta Di amali incomici Ne abbiamo parlato Anche noi Adam Sandler Jim Carrey Vabbè Pagliacci di Watchmen È sempre quello Esattamente Quindi è stata Un'esperienza Un'esperienza Di ballare la mia vita Nel senso Ieri ho rivisto Il backstage del film E io un sorriso del genere Non penso di averlo mai avuto In generale Perché tu A parte quando sei venuto A questo podcast Incredibile Ci vengo ogni settimana Ve lo dico Mi metto là C'è la dica La produttrice Emanuela Cacciamani Di One More Mi ha Mi ha messo Un po' sotto la sua ala Nel senso Io ho fatto un corto con lei Poi ho fatto un documentario Sui Poo Mi si è andata la possibilità Di fare questo documentario Sui Poo Che io originalmente Avevo rifiutato Ok Perché noi Ho detto Che devo fare con i Poo Nel senso Poi ci sono state Varie dinamiche Tipo scopro che Il ballo lento Dei miei genitori Al matrimonio Era sui Poo Mi scopro che Conosco le canzoni Dei Poo Perché da piccolo In viaggio in macchina Le mettevano io Viscino alla cassa Quindi inconsciamente Io conoscevo i Poo Li conosco personalmente Vedo che Questi È una storia d'amore Lunga 60 anni Questi sono diventati Erano i Maneskin Prima dei Maneskin 60.000 persone allo stadio Non c'era il telefono Quindi la passaparola Famosi in Russia Jet privato Abbandizzato Poo Assurdo E conoscendoli Il loro Il film dura 92 minuti Perché ci ho messo Un Mokumentary Che già spiegare Rai Mokumentary È stato difficile Ma ce l'abbiamo fatto Peter Jackson The same Quando ho detto Mokumentary Ho detto docufilm Non è vero Quando squirto questo Io ho parlato Con ogni Poo 4 ore E poi dopo Fa 92 totali Quindi Io avevo del materiale Che non ho potuto usare La Stefano Dorazzo Il batterista Che non c'è più Sua moglie Mi ha dato la sua telecamera Dove c'erano i video Perché lui ha vloggato Tutta la sua vita E io sono riuscito a fare Io ho guardato i suoi vlog Da lì ho costruito Con la sceneggiatrice Le domande Quindi io riuscivo anche A far rispondere lui Quando sapevo che poteva rispondere Cioè alla Louis Sal Proprio Tu hai citato Louis Sal Sì chiaro Ma c'è anche Ci sono tantissimi documentari Che hanno avuto Uno sviluppo simile Anche all'interno Di roba d'autore Bellissima sta roba È andata benissimo Ho fatto tipo Il 21% Il 14% di share Che è su Rai 1 È per un documentario Il record della storia Dei documentari E da lì Mi è stato detto Se vuoi fare un film T'ascolto Io ho portato questa storia Per quanto possa essere Un po' stupidotto Come ingresso Si bilancia Perché E l'ho ritrovato Grazie a Dio Nel film della Cortellesi Nel senso che La vita non può essere Sempre tutta comica Tutta drammatica Io vedo sempre film Totalmente comici Totalmente geogrammatici Io non ricordo Una giornata in cui Ho riso totalmente Ho pianto totalmente Quindi io nel film Ci metto delle robe Abbastanza grevi Ma battuta dopo Fa ridere E ti caghi addosso Quando poi l'hanno proiettato Allice nella città Io ho sto ricordo Molto bello Io sono andato in Transla Mi ricordo un cacchio Mi ricordo solo Che alla prima battuta Ho sentito il cinema ridere E Tommy mi ha toccato E ha detto Oh funziona Quando ha detto funziona Io no Blackout E ho detto Cacchiarola Poi c'ho questa roba Che mi tocca Ed era L'ex sindaco di Roma Come si chiama Alemanno Dopo Rutelli Rutelli in lacrima Che mi chiede un fazzoletto Ho fatto Perché hai la combo No la combo Che vedevo persone di varietà Che si commuovevano Per il finale Perché oppure Nel finale E quindi ho detto Cazzo quella funziona Poi quando Si ha appeso Sei minuti di applausi Che Io ho sempre chiesto Che cazzo fai per sei minuti di applausi Quando vedevo tipo The Whale Non fai niente Piangi Voglio andare a casa Mamma Quindi non so come andrà Però L'opportunità che mi è stata data Di raccontare una storia originale Che non fosse un remake È stato Molto bello Che figata Cioè comunque Non so come dire In questi due racconti Che hai fatto Anche tutto il discorso Dei Pooh Che mi dice Li sentivo quasi inconsciamente Così Cioè Trovo Che Lo trovo in te Ma come lo posso trovare Anche in villaggio Volendo C'è Una connessione Quasi Dettata all'universo Di fortuna Nel recepire Alcune storie Che è incredibile Per il lavoro Del regista O del cineasta La libertà Cioè Da quello che mi hai Da come l'hai raccontata Mi sembra di capire Che ti è stata lasciata Comunque tanta libertà Anche sul mockumentary Dei Pooh Stranamente Io quando sento persone Che si interfacciano Mi dico sempre C'è il produttore Ci sono i paletti Alcune volte Devi scendere È un lavoro Fatto di compromessi Perché è un lavoro In cui prenderai 9 volte su 10 No Però quell'1% Quel sì Te lo devi difendere Perché da quel sì Che l'altra volta Sentivo una cosina Bellissima Del regista di Mare Fuori Che ha detto Che la carriera È fatta dai no Però la vita È fatta dai sì Solo da quale podcast L'hai sentita E non è il nostro podcast Il nostro amico Il cinema è morto Ci piace Il regista clamoroso Noi siamo amici E poi è molto interessante Quella puntata Con il regista di Mare Mare Fuori Mare Silvestrini Lo conosco di ciao 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 Però ho trovato una profondità Questa è una puntata 14 minuti Tu dici ok Gira 14 minuti Che è follia Però scendi a compromessi Perché hai poco tempo Un film in un'opera prima Si fa in 4 settimane Spoiler Un film se non hai almeno 6 È complicato farlo Che 4 minuti al giorno Si vede alcune scene Te le devi fare andare bene Per forza Si scassa la macchina da presa A me una volta il fonico Si è sentito male Hai una serie di problemi Però è vero che è una libertà Perché la roba che Di Verdone Mi è sempre piaciuta E che secondo me Noi abbiamo smesso A livello creativo Di guardare Che può sembrare Una cazzata Una frase fatta La metro Ti dà una serie di spunti Oggi è successo Che mentre tornavo a casa Mi si è scaricato il telefono A parte il panico Di Io a Milano Ci avevo 7 anni Però le strade ancora Non le so Ho alzato la testa Io ho visto Un scomparto di vagone Tutti col telefono In un silenzio Solo E ho guardato E ho visto La coppia che si toccava Che era clamorosamente Che era il primo appuntamento Che si toccava Abbiamo perso Quella concezione Di guardarci attorno Perché Verdone Ha solamente fotografato Gli anni 80 Certo Quei personaggi In realtà Cioè lui ha sempre detto Il coatto Era un coatto Che vedeva sotto casa La sua voce stridula È il vicino di casa Nel momento in cui noi guardiamo Perché Ora si fa sempre Quando fai un pitch con un produttore Di chiedermi Dammi l'iConcept Manca l'iConcept Non c'è l'iConcept Quindi hai Caterva di film In cui c'è Un iConcept Che si tira per 90 minuti male Perché non c'è mai Una storia vera Ci siamo dimenticati Che la normalità Può essere fica E che a volte io Ho bisogno di vedere uno Che non ha soldi Non ce la fa Oddio cazzo Mi è sembrato così O nei dialoghi dire L'ho detto anche una volta Può sembrare una grande banalità E chiedo scusa Però Mi manca Cioè io sono ossessionato Dal fatto che Si possono ancora raccontare storie Poi Cioè le piattaforme Diano la possibilità Di fare anche budget Il film con budget più piccoli In cui puoi raccontare storie Puoi sperimentare di più Certo Che è il pubblico Il sovrano Che ti decide Se vai o no in classifica Come lo hai sul cinema Ma il cinema è un campionato a parte La distribuzione Il final cut Che tu non hai come regista Ma ce l'hai col produttore E allora Io ho avuto anche fortuna lì Che la produttrice Ha accettato il mio final draft Nel senso Mi ha dato delle giuste considerazioni Però il mio film è arrivato Da Vision e da Rai Che era quello che volevo io È rara questa cosa Ho saputo di regista In cui il film viene massacrato Ma sai Molto spesso è difficile Perché la rappresentazione Nella realtà Nel cinema Non è mai fedele alla realtà Perché banalmente Il solo fatto di voler rappresentare Una storia reale E quindi comunque Fare delle scelte Registiche Di rappresentazione Beh io non sono d'accordo Con questa cosa però Vabbè Cosa ho detto Sempre per la storia Del fatto che non hai messo il nome Ma perché non volevo No Cioè secondo me Se hai capito Che ho detto Che è impossibile Allora ho sbagliato Io non volevo dire Che è impossibile Dico che è molto difficile Però Essere fedeli Essere fedeli Infatti mi sembra Che non fossero D'accordo Cioè se dicono Che è facile Essere realisti No Non questo Però che in realtà Il cinema si nutre di realtà Molto più di quanto oggi Siamo abituati a pensare Sì però poi Hai degli attori In una stanza E hai un copione Che tu devi scrivere Battuta dopo battuta E fare effettivamente Qualcosa di reale È molto difficile In realtà Ma non impossibile No 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 E soprattutto dipende Anche da cosa intendi Per reale zio Perché poi reale Nel senso Ogni mondo raccontato È una propria visione Del reale Quindi bisogna anche Mettersi nella logica In cui oggi reale Cioè io ho visto La chimera Della Lorbacher Finché consiglio tantissimo Che nessuno di noi Però ha visto No 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 Infatti dico due parole A riguardo Cioè io ho pensato Questo è il modo In cui questa regista Quest'artista del cinema Quale è secondo me Lice Lorbacher Racconta la sua percezione Del reale Perché lei viene Da una famiglia Di apicoltori Viene da una famiglia Di contadini Conosce quel bucolico E lei si sarà persa Nella sua infanzia Nella sua adolescenza Come dicevi tu Banalmente nella metro Mi è sembrato Un esempio perfetto Si è persa Nell'osservare La sua realtà E quindi lei ti riporta Autenticamente Un modo di intendere La realtà Che è il suo sguardo Sulla realtà Cioè sono d'accordo Con te nel dire Non è che noi raccontiamo La realtà Noi raccontiamo Uno sguardo Sulla realtà Quello che diceva Nicola Che è strafigo Perché in realtà Non è per niente banale Anzi È verdone Ma anche tu stesso Nel discorso Che stai facendo Sul tuo film E in generale Sul tuo sguardo In generale Lo sguardo che dovremmo Avere tutti È accettare Il nostro sguardo Sulla realtà Cioè se io mi innamoro Del fatto che Quando usciremo Dopo questa puntata Nicola fa un gesto strano Azzino Nel dirgli una roba Quello è una cosa Che il mio sguardo Ha notato E che io posso Trasformare in cinema Che non è che deve essere Realtà in senso assoluto Ma è una cosa Che io ho notato Della realtà La realtà tua Certo Quindi in realtà Ogni film Ha a che fare Con la realtà Zio Non c'è un'ambizione C'è il vero simile Un concetto Molto aleatorio Perché non è che Se tu fai un film reali Che cazzo vuol dire Un film realista Non vuol dire niente Anche un documentario Non è un film realista Perché comunque Lui avrà fatto Delle scelte Su come raccontare i Poo Il montaggio Su quelle 12 ore Il montaggio Su quelle 12 ore Di conversazioni Che ha fatto Con i membri dei Poo Lui comunque Ha fatto delle scelte E quello volevo dire Fratello Cioè che non c'è Una verità oggettiva Ma è in realtà Siamo d'accordo Siamo d'accordo No niente in realtà Niente in realtà Niente in realtà Tutto in realtà Bello Incredibile Onorato Però ti volevo chiedere Qual è il tuo primo impatto Con Verdone Tu come lo scopri Verdone Allora Verdone Lo scopro Con Viaggi di Nozze VHS di Viaggi di Nozze Perché Dopo la cassetta Casa mia A lui non andavamo Molto al cinema Perché non avevamo Tanta la possibilità Quindi io avevo Tutte quante Le cassette di Disney Finte Quelle della Stardust Certo Che avevano tutti I finali diversi Tipo alle medie Io raccontavo Il governo di notte Ma non mi ne muore No Cioè Hercules Mi ricordo che Durante 12 fatiche Smette Che vuol dire I finali diversi Allora Era una La favola Molto più sulla favola Che non Film Disney Sì Hercules Esattamente Hercules aveva Le 12 fatiche A metà si scocciava E se ne andava a casa Per me quello Era Hercules Era l'arrendismo Dell'essere umano Era meglio Non sono in grado Mi ritiro Quindi sono cresciuto Wow Consapevolezza Di prima capacità Io divento un dio No Quindi avevo questo E Viaggi di Nozze Ok Quindi l'ho guardato Da piccolissimo E io mi innamorai Di Jessica Ivano Famostrano Perché Parlavano di sesso E quindi Era l'unico modo Per vedere due Che andava E' andato là E ricordo Tante risate Ma tuttora L'ho riguardato Il mese scorso E mi fa sempre ridere Io non so Come faccia A non essere ridondante Quell'uomo Che io Ho un po' Un feticismo Verso L'ultimo Verdone No Nel senso Che lo vedo Vecchio e stanco Perché secondo me Ha fatto un errore Con gli sceneggiatori Il Verdone Non ha saputo Reinventarsi Secondo me Arrivi a un certo punto Della carriera In cui ascolti poco Che questo Lavoro Un lavoro Di ascoltare Secondo me Non c'è una certa Finisci le cose da dire Perché non le vivi più Perché per lui Andare al bar Andare in farmacia Infatti Vita da Carlo Non so se l'avete visto Prima stagione Secondo me Se la cava La seconda Che è andato un po' Sul fantasy romanzato E le hanno detto Metti San Giovanni Metti quello L'influencer Tirano Come fa in Boris Quattro Arriva alla piattaforma E va E' stato un amore Quindi perché ho capito Che si poteva Tanto ridere Ma io ho un ricordo strano Di quel film Perché il finale C'è Ivano Che gioca da solo A casa Tirando i palloni al muro Per due minuti Quel film è tragicomico Perché la prima coppia Si lasciano La seconda Ivano e Jessica Non vanno d'accordo La terza Non mi ricordo neanche Lì era Per quello vi dico Che Verdone Secondo me Ha fatto i personaggi Ma ha sempre voluto fare Un altro tipo di cinema E quando l'ha potuto fare Si è scatenato Compagni di scuola C'è Chigori Li tirò appresso La sceneggiatura Che disse Troppi personaggi Non sei in grado Poi quando lo vide Disse Li giri meglio Di come li scrivi Che è una roba Cioè Secondo me E' uno dei complimenti Più belli Che ti possono dare Il gista Una cosa del genere Perché evidentemente Su carta della concezione Viste un altro Io di lui Mi è sempre innamorato Il fatto che Vuole essere malinconico Però non poteva mai E quindi doveva esagerare Nelle risate Però quando poteva Ti dava la stilettata Quello è il cinema Di Verdone Mi ha fatto impazzire Sempre Che forse No è bellissima Questa cosa che hai detto Che forse Era l'unica cosa Che si poteva fare Cioè Appunto Lo dicevamo prima Tu vieni da vent'anni Di un cinema italiano Che ha raccontato Roma Ma in generale l'Italia In un modo È tutto In un modo onirico Poetico Grottesco Divertente Tragico Politico Cioè avevi avuto Petri Avevi avuto Fellini Avevi avuto Antonioni Avevi avuto Pasolini Cioè Veramente Era un momento In cui Entrare anche solo Nel cinema Secondo me Doveva significare Sentirti il peso Di tutto Il cinema Da questa roba Verdoni usciva contemporaneamente A Benigni E Troisi Prime Con i loro film Capito Quell'anno fu devastante Questo faceva i figli di Natale Contro Troisi Capito Con Troisi Che invece Prende una linea napoletana Totalmente sua Unica Un cinema napoletano Che ovviamente Ha una storia totale Però Meno secondo me Vincolato Agli ultimi 20 anni Ecco secondo me Troisi non gli hanno detto Che sia il nuovo Totò No No Secondo me no Neanche il nuovo Edoardo Secondo me Troisi ha veramente Fatto qualcosa di suo E gli hanno anche lasciato Non lo so Sarebbe interessante Chiederlo A chi può Sapere Ci vedi una libertà Beh sì Zima Perché banalmente Il cinema napoletano Aveva Totò Aveva Edoardo Che però era tanto teatro No E non aveva Il peso specifico Di Roma Cioè Roma Roma negli anni 60-70 E Caputmundi Cioè Roma è Dove veramente Anche gli americani Vengono a fare cinema Cioè chi gira a Roma Gira De Niro Gira Cioè che cazzo di roba È Roma in quegli anni Quindi tu dici Di fare cinema a Roma Eh voglio fare cinema a Roma Cioè nel senso Vedi i titani No Sì è l'attacco dei giganti Solo che i giganti È dovuta scendere a compromessi Con i personaggi Però ci ha dato sempre Un sacco di anima Però cazzo Ha fatto una roba Completamente sua Verdone Cioè Verdone è Verdone Capito Cioè nel senso E ora è lui il benchmark Per i romani Capito Cioè quando si usano Non si usano gli aggettivi Fantoziano Sta sulla Su Pilar Fogliati È la nuova Cioè tutti dicono Il nuovo Verdone Perché ha ripreso La metodologia Dei personaggi Ed episodi Verdone è riuscito A fare il suo cinema In un tempo In cui a Roma Fare il tuo cinema Era un casino Cioè questa è una roba Di cui bisogna dargli atto Sono veramente Super atto Secondo me è tanto sottovalutato Perché si pensa sempre A una maschera comica Quando in realtà Secondo me c'era proprio Una marcia in più Anche a livello intellettuale Tutto Anche se non si parla mai Del Verdone regista Perché comunque La commedia registica Di Verdone Se l'analizzi dal regista È campo e contro campo Non si è mai inventato Un piano sequenza Però c'è un film Di cui si parla poco Che è il mio miglior nemico Madonna Ti abbracceri A te è piaciuto? E allora Io ho una storia Cioè quello là È il film che ho visto Per primo di Verdone L'ho visto con mio padre Con mio padre Al cinema Io e lui Così Ed è un film da vedere Con tuo padre Al cinema Bravo Bravissimo Ed è un film In cui io ho messo Un sacco di cose Quindi quando Mi è capitato di rivederlo In realtà a me piace Nonostante abbia Un sacco di limiti Nonostante giochi Su tantissimi Però Quello è il cinema C'è il legato Una roba emotiva E quindi Ma ci vedo anche Molta realtà Cioè ci vedo anche Tanto della vita sua Perché l'ha scritto Un ragazzo L'ha scritto Muccino Con lui Quella prima volta Si è aperto Uno più piccolo E è tirato fuori Poi di solito scrive Cioè ce n'è uno L'ultimo No quello con Che è uscito Durante il covid Con Tortora E Anna Foglietta Sì una volta sola Si può guardare Quel film Non è lui Sembra un film tirato Che Evidentemente Sceneggiatura Magari può essere Cioè io se andassi Scrive con Verdone Sarei completamente In soggezione Cioè Verdone E Verdone Io quando l'ho conosciuto Ho detto due tre frasi Ho detto due puttanate Una dietro all'altra Poi a casa ho detto Ma sono un cretino Ci dissi una roba Ma non ricordo neanche Non ricordo solo Ho provato vergogna Dopo che l'ho detta Potevo dire Prendete ora Lo stupisco Lo stupisco Cazzate Che lui mi ha fatto Roba buonariamente Toccata e se n'è andata A dire efficiente Ma infatti Sai che ti posso dire Una cosa A cui pensavo Oggi pomeriggio Quando pensavo Alla puntata Cioè se tu pensi A Fellini Pensi a Fellini Prime Come hai detto tu Sono belli fermi Nel momento Alcuni magari Non ci sono manche arrivate L'invecchiamento Di Pasolini eccetera Tu non pensi mai All'invecchiamento Anche di Fantozzi Cioè di Paolo Villaggio In generale Se tu pensi a Paolo Villaggio Ti ricolleghi comunque Al Paolo Villaggio 70 Villaggio non tanto Villaggio secondo me Verso la pensione Ha fatto due dei film Più belli Tre film Ha fatto Cari fottutissimi Amici Cari fottutissimi Amici di Monicelli Poi ha fatto Io speriamo che me la cavo Che è veramente La Verweiler E lì era Post Fantozzi In cui lui secondo me Voleva dimostrare a se stesso Che era un attore Che era un grande attore E lo era Ho generazione 1000 euro Secondo me E un manifesto Per chi vive a Milano Con 1000 euro Che ci sta No nel senso Tutti quanti Il Villaggio secondo me L'ha provato a fare lo scatto Però sto parlando di Io speriamo che me la cavo Perché siamo del sud Poi l'ha girato a Paranjo E poi è un po' Uno school of rock Senza rock Bra cazzo Quella è la re Se lo dovessi raccontare In Italia direi School of rock Con Villaggio Immagino di Jack Black La però Eh beh Sarebbe stata una roba Comunque Però è questo È un po' l'opposto In realtà è un po' l'opposto Di School of rock School of rock Lui insegna una scuola Super ricca Invece lui insegna Io speriamo che la cambiene Da un libro Che veniva da avere Testimonianze Dell'abbandono scolastico Nel sud Italia Quindi comunque È un film sociale Sì Però ho capito Questo è il fatto Cioè Verdone oggi Si sta accollando Anche alla responsabilità Forse dell'ultimo Non me ne vengono altri Magari mi sbaglio È vero Novecentesco No? Chi ti viene in mente Del cinema italiano Del novecento? Hai soltanto Remore Nel senso che Penso io Penso sempre Chissà Troisi Che cacchio Eh certo Che il regista Perché secondo me Sarebbe diventato Avrebbe fatto il giro Sarebbe diventato Il regista E basta Può essere totalmente Nuti Nuti Francesco Nuti Cioè Quell'uomo è stato sfigato Fino alla fine È morto lo stesso giorno Di Berlusconi E nessuno se l'è ricordato È vero È vero La voletta Cioè Sei sempre stato il secondo In mezzo a tutti Muori E sei il secondo pure là È assurdo È la vita Io Nuti Non so se l'avete mai visto bene Nuti Recuperatevelo Perché secondo me Era Ed è Probabilmente Il migliore a muovere La macchina da presa in Italia Lui è andato in America Si prese il direttore La fotografia americano Ed era l'unico Che faceva i Tecno Crane E i Dolly Negli anni 80 Con ci sono testimonianze Nel documentario suo Non mi ricordo Vengo Willy Signore Vengo da lontano Si chiama In cui il produttore Racconta che lui gli chiedeva Questi carrelli di 60 metri Non staccava mai la camera E lo faceva al primo film Perché si era studiato Gli americani Il signor 15 palle C'ha di pieni sequenza Da 7 minuti Pazzesco Immagina che sarebbe diventato Poi Non va Però si Penso che è rimasto soltanto verdone Non mi viene Aldo, Giovanni e Giacomo Ma già Sì ma è un'altra roba Sono di vero Però gli ricordi E adesso non ti viene proprio Odio l'estate È carino Ma sono loro Giacomo fa il podcast Giovanni Il Poretti podcast Che salutiamo Il Poretti Poi sai anche lì In quello Comunque ne sono usciti meglio Rispetto dai 2, 3, 4 Che hanno fatto prima Quando avevano qualcosa Da raccontare Erano i migliori Eh sì Guarda che i comici Invecchi Secondo me era una Gratadistradenza Di 15-20 anni Esatto Per cui quello Io dico Cioè l'anacronismo È di un facile Esatto Quindi quando Se liga adesso Con i comici vecchi E tu dici Ma perché Perché poi li guardi Con tuo padre E tuo papà ride E tu no Perché la tua comicità È cambiata È culturalmente Localizzata Quanto usate TikTok? Abbastanza Quanti Anche io Io abbastanza Instagram Voi non guardate Sei bombardato di comicità Cioè ridere È proprio difficile Ormai sei tutto Prima ti aspettavi Sei l'ultima Il film Ti facevi quella battuta E ne parlavi Adesso ti vedi un film Esce e non ti ricordi le battute Perché l'hai già sentito E l'hai già fatta Noi abbiamo una comicità L'hai vista prima di vedere il film Cioè noi Afterlife Oh Che comicità Poi guarda mio padre Non capisco Perché Afterlife Presuppone una serie Di elementi Memetici Contemporanei Antropologici Un po' come la zanzara Che presuppone comunque Una serie di Il vero sogno Di Giovanni Fascali È Avere la zanzara qui Vabbè io rido Però sì Però la zanzara È istruttiva Sì Ma al di là Del fine Ultimo Però il punto È che anche lì Devi avere dei costrutti Mio padre Se mette la zanzara In raro Dice Giovanni Cosa sta succedendo Come quando ero piccolo Io sentivo lo Zoe 105 Cavolo Ed era una roba proibita Mi vietava di vedere i Simpson Perché erano Dicono le parolacce E poi che parolacce Sbardi ci va a culo E basta Io penso che i Simpson Siano la più grande Opera seriale Del novecento Io impazzisco Perché i Simpson Se io ti dicessi Un personaggio secondario Me li ricordo tutti Sapresti dirmi Un abbattuto Altro Io ti dico Kletus 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 esce soltanto In tre episodi Io lo conosco Sì Tre episodi Con protagonista Che grande Kletus Però si vede in mille puntate Con i suoi duecento figli Alza la roba assurda Concentrante Ma le puntate di Mr. Bean Sono 26 Sì Quello è stato Uno dei più grandi traumi Della mia adolescenza Che cazzo dici O 26 o 13 Una roba Tu hai rivisto sempre Le stesse cose Sì come se tipo 12 o 13 Una roba del genere Sempre Tu hai visto quella del capodanno Ogni capodanno Per tutta la vita È un incubo Veramente un incubo Quella roba là Invece Top Gear Sono tipo 40 Sembra che siano 12 pulsanti È vero Se la gioco con Beautiful Top Gear Beautiful Ho un aneddoto simpaticissimo Vai Praticamente A casa mia Si vedeva tantissimo Beautiful Con le mie zie Io sono addicte Di Beautiful Ridge Brook Successe che Noi avevamo una zia in America La classica zia in America C'era mia Altra mia zia Che le telefonava Perché in America Erano sei mesi in avanti Sulla stagione Si faceva dire le robe E poi nel piccolo paesino Dove avevamo Ternitapoli Lei faceva i spoiler Cioè quando Taylor Stava per morire Noi non sapevamo Perché c'era La finale di stagione Mi ha chiamato mia zia E disse No no è viva Tranquilla No Noi abbiamo fatto Una grande estate Perché savavamo Che Taylor era viva Questa cosa è incredibile È lo spoiler Antelittera Lo spoiler nel 1995 Incredibile Ciamati in terra urbana Costavano un botto Solo per far sì Se Taylor era viva O meno Bellissimo Guarda ancora che lo guarda Mia zia a pranzo E che esiste Esiste ancora No mi c'è È finito No 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 Esiste L'hanno rinnovato Esiste Anche quella La storia del fatto Che era tutto un sogno Di Brooke Vabbè ragazzi Signori Chiudiamo questa puntata Perché mi hanno detto Che dobbiamo chiudere Perché cioè Rischiamo che le telecamere Si stoppino E noi stiamo A parlare qui Cosa che non sarebbe Sbagliata Perché noi andiamo Al di là del minutaggio Ma infatti Cioè Se mi sostituite con Nicola Io sono contento No 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 Non contarei mai Però Cioè Dicevo comunque Non parliamo di Beautiful In questi pochi Minuti Secondi Che ci rimangono Perché Parliamo di 100 vetrine Una bella Chiosa Su Verdone Villaggio E che secondo me Non c'è più di tanto Quell'anacronismo Di cui abbiamo appena parlato Cioè quella data di scadenza È un po' più Allungata Quanto meno La vivi La vivi meno O la vivi meno peggio Rispetto a tanti altri comici E quello sicuramente Sì Voglio preparare un format Scusate Tramezzino Non so se Ne ho parlato con tutti Tramezzino Tu ora si chiama Tramezzino Tu ora racconti Una trama di un film Va bene Però lui non la sa questa cosa E il nostro ospite Nicola Può indovinarlo Però il tuo film Non deve essere Un film vero Ma deve essere Il titolo di un vero film Con una parola cambiata Con una lettera È la storia di un adolescente Che non vuole crescere Che dice un sacco di parolacce al banco Matt Oh mio dio Dacci più indizi È l'adolescente che non vuole crescere D'animazione Dice un sacco di Quando vi arrendete Ve la dico C'è un sacco di parolacce al banco Matt Posso dire Forse bestemmia al banco Matt Perché Sta andando malissimo Ok Forse vi ritirano la carta Ah Aspetta Ma è impossibile così No 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 È bello questo Ve lo dico Ah è vero È più facile Ok Vi la dico E me ne fate una voi Vai Peter Pinn Però devi dire Che si chiamava Peter Ovvio Era troppo falso Ragazzi Io stavo pensando a Peter Pan Però non c'è un segnale Tu stavi pensando a Peter Pan Eh sì Un adolescente che non vuole crescere Ok Te ne dico Te ne faccio uno io Un po' più complicato Allora Quello che sto per dire Non ha a che fare Con la trama originale del film Però in base al nome nuovo Esatto Allora C'è un grande fotografo Ok Questo grande fotografo Si è rotto le palle Perché fa solo foto di moda Fa solo foto Un po' snob No Lui dice Voglio fare la grande foto Voglio fare la foto perfetta Voglio fare La foto più bella della storia Quindi a un certo punto dice Forse devo tornare alle origini Forse devo raccontare La cosa più poetica Più semplice E quindi va Davanti all'orizzonte Prende la telecamera E fa così E scatta la sua foto E io lo so Lui prende la telecamera Inquadra Dimmi se è un film straniero È un film straniero Però con titolo italiano Ok Lui prende Guarda l'orizzonte Prende la telecamera E fa E fa la sua foto perfetta Con questo movimento È il movimento Che fa con mossa Esatto Cazzo aspetta mossa Quindi hai cambiato Alla M a mossa Ah cazzo Mi sta venendo però Ce lo puoi avere Ce lo puoi avere Perché mi viene la grande Non è la grande Non è grande Ma è La piccola Non piccola La peggior No Però è una cosa Che non è piccola Ma che comunque Dimmi l'attore Eh ci sta Ocean Penn Ci sta il mondo In sto film Ci sta Adam No come si chiama Trimbrodi Ah ma rendo vai La sottile linea mossa Questo format è bocciato È bellissimo La sottile linea mossa Faccio altri Questa cosa è disponibile Solo per gli utenti Twitch Perché non credo Che le camere Stiano più registrate Ok Ringraziamo Nicola Conversa È stata la più bella puntata Delle puntate Della storia Delle puntate Sicuramente meglio Grazie Nico Grazie a voi Grazie Nico Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a tutti.